Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe di Camere e benvenuti in questo nuovo video di informazione per quanto riguarda Assassin's Creed Unity Come al solito infatti ci ritroviamo per un vlog in modo da comunicarvi tutte le informazioni ricevute nell'ultimo periodo Come al solito vi ricordo in primo luogo di lasciare un mi piace sulla mia pagina Facebook per non perdervi nessun aggiornamento riguardo al mio canale E di scaricare la mia applicazione completamente gratuita per browser compatibile con Firefox e Google Chrome Partiamo quindi con le informazioni relative ad Assassin's Creed Unity In primo luogo è stato annunciato che le armi saranno personalizzabili In particolar modo credo sarà possibile farlo con le armi da fuoco Quindi in questo modo potremmo personalizzare l'arma in base al nostro stile di gioco A tal proposito entra poi in gioco un fattore fondamentale Ovvero il sistema economico che a quanto pare sarà molto più profondo rispetto ai capitoli precedenti Dato che comunque i potenziamenti dovranno essere acquistati per le nostre armi In questo nuovo capitolo della saga non ci sarà il gameplay navale Infatti davvero in tanti avevano apprezzato questa sorta di cambiamento introdotto con Assassin's Creed 3 E poi approfondito proprio al 100% con Assassin's Creed 4 Black Flag Ma invece questa volta non sarà presente Anche perché comunque l'azione di gioco si svolgerà unicamente a terra Infatti credo che l'unico percorso che forse potrebbe essere navigabile sarà la Senna Anche se comunque non ci sono informazioni al riguardo La mancanza della possibilità di poter appunto avere un gameplay navale è stata giustificata dal fatto che gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente sulle capacità a terra di Arno Il nostro protagonista sarà molto agile e il suo parkour sarà una vera e propria fusione tra rampicata e corsa Ciò possiamo notarlo già da ora tramite i trailer e comunque in generale quei piccoli gameplay che abbiamo visto Dato che il personaggio si muove in modo molto più anche naturale oltre che fluido Quindi ragazzoli davvero non vedo l'ora di scoprire soprattutto il modo mediante il quale Arno riesce a scendere e soprattutto anche a salire dagli edifici in modo veloce e naturale Ubisoft ha annunciato che rappresenterà la rivoluzione francese in modo molto accurato da un punto di vista storico Nonostante ciò quei piccoli buchi presenti all'interno di quegli anni saranno sfruttati per creare eventi verosimili in modo tale da dare ulteriori spunti per un gameplay innovativo Come ultima notizia vi riporto qualcosa di davvero pazzesco e che interesserà soprattutto i collezionisti Infatti dai prossimi mesi sarà resa disponibile un action figure che ritrae appunto Arno il protagonista appunto di Assassin's Creed Unity a grandezza naturale Quindi ragazzi sarà alta circa 2 metri e mezzo tenendo in considerazione il piedistallo che sembra piuttosto alto e il peso sarà di 173 kg Quindi ragazzi tutti coloro che vogliono acquistarla credo debbano anche sbrigarsi a prenotarla Il prezzo sarà di 2500 euro e potete già trovare questa action figure sullo store Ubisoft quindi vi lascerò il link in descrizione se appunto volete vedere nel dettaglio tutte le immagini che già comunque vi sto mostrando al momento Le news per oggi si concludono qui ma davvero a breve realizzerò un altro video per informarvi sulle novità che sono state rivelate al Comic Con e sono davvero interessanti ragazzi Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale appunto per non perdervi i prossimi video in arrivo e di guardare anche gli altri video che realizzate in passato Perché anche quelli chiaramente rivelano informazioni importanti per quanto riguarda la trama e il gioco in generale Infine ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere cosa ne pensate delle novità che vi ho elencato appunto in questo video Quindi ragazzi alla prossima, ciao!